Decine di persone si sono riunite questo sabato davanti alla sede della Polizia di Parigi. Rispondevano a una chiamata dell'Associazione delle Donne Poliziotto Arrabbiate, intenzionate a difendere i corpi di sicurezza dalle accuse di violenza e abusi da parte del movimento antirazzista. La nostra polizia non è affatto razzista, i nostri poliziotti non sono violenti, ha detto Aurelie Larussi, presidente dell'Associazione, che chiede al contempo la condanna degli abusi qualora si verifichino. La sera prima, venerdì, oltre 200 agenti di polizia si erano già riuniti davanti al Bataclan di Parigi, luogo simbolo degli attentati del 13 novembre 2015, per protestare contro le medesime accuse, denunciando la mancanza di sostegno da parte del Ministero degli Interni, guidato da Christophe Castanello.